Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Chi è uscito dalla casa del grande fratello durante la puntata in onda lunedì 6 novembre su Canale 5? L'appuntamento con la prima serata di Canale 5 si era aperto con 5 concorrenti in nomination, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Alex Schwezer, Angelica Baraldi e Gisella Torresan. 5 concorrenti al televoto e soltanto uno sarà eliminato, tutti spalle al led e il primo a salvarsi è Mughini. A seguire poi, altri due uomini, Giuseppe e Alex. Entrambi sconvolti, tanto che Garibaldi, abbracciando il giornalista, scoppia in lacrime, mentre il marciatore è stupito, credendo di non dare un grande contributo. Il testa a testa è fra Angelica e Gisella. Gisella, entrambe credono che sia il proprio il nome scritto nella busta. Anita è incaricata di recuperare il verdetto e afferma, è scontato che non vorrei che uscisse nessuna delle due, voglio bene a entrambe, ma con Angelica ho un rapporto speciale. È un gioco, va bene così afferma Gisella. Anita è pronta ad aprire la busta e legge, chi dovrà lasciare definitivamente il gioco è, Gisella. Colpo di scena afferma Alfonso Signorini. Lachweck lascia la casa fra la commozione e gli abbracci dei coinquilini, ma sul suo volto regna il sorriso.